Ciao ragazzi, finalmente il Milan è tornato in Europa, ovviamente dico finalmente solo per i tifosi milanisti come me ok, non sarà la Champions League, ok, non sarà la qualificazione diretta all'Europa League sarà semplicemente il preliminare dell'Europa League ma io penso che questo traguardo sia veramente molto molto importante a livello societario, a livello di calciomercato a livello di mille altre cose farà tanto, è molto importante, era molto importante raggiungere questo traguardo e finalmente oggi, seppur con tante difficoltà, siamo riusciti a vincere contro un Bologna che ci ha dato molto filo da torcere il Milan nel primo tempo, come sempre, mi ha fatto molto incavolare centrocampo praticamente assente, c'era un Bertolacci inguardabile, non a caso nel secondo tempo l'ha subito cacciato via, al suo posto è entrato Mati Fernandez che è riuscito a cambiare la partita da così a così secondo me è stato lui l'uomo chiave di questa partita, lui è bravissimo a dettare i tempi, a mantenere la calma e quindi il suo innesto a centrocampo ha sicuramente giovato tantissimo a questa partita in attacco, Bacca come sempre, mi fa imbestialire in un modo pazzesco io ragazzi, Bacca appena arrivato al Milan ero felicissimo le prime partite mi piaceva, poi pian piano il mio amore nei suoi confronti è andato via via scemando si intestardisce a volte, come ad esempio oggi contro il Bologna e quando la deve passare tira e quando deve tirare tira perché lui tira sempre, anche quando è in condizioni precarie di equilibrio lui tira capisco l'istinto dall'attaccante, però tante volte sarebbe meglio se la passasse quindi ragazzi sono molto contento per il Milan, sono molto contento per Montella che è riuscito a creare un gruppo vincente ok, non abbiamo vinto lo scudetto, ma l'obiettivo del Milan era tornare in Europa anche ai preliminari, vi ripeto, va benissimo siamo riusciti ad andare in Europa al posto dell'Inter che l'ho sempre detto, l'Inter quest'anno va alla rosa molto più forte ma non solo del Milan, ma anche di tante che sono andate più su del Milan vedi la Lazio, vedi l'Atalanta il Milan oggi comunque ha giocato male nel primo tempo, molto meglio nel secondo tempo c'è stato un gol annullato perché c'era un fuorigioco chilometrico di La Padula anche se non capisco perché ci hanno messo tre ore ad alzare la bandierina però vabbè, ci stava assolutamente nel primo tempo c'era stato anche un altro errore a favore del Milan ma La Padula, come spesso capita, ha tirato fuori La Padula ad esempio è un altro che non so se amare o odiare sicuramente la grinta che metti in campo è imparagonabile per me è molto importante questo se un giocatore si danna come fa lui alla fine i risultati verranno dovrebbe essere un po' più cinico, un po' come lo era prima al Pescara se diciamo riesce a migliorare sotto il profilo realizzativo potrebbe diventare sicuramente un giocatore molto importante anche se io dal calce mercato estivo mi aspetto molto secondo me il Milan ha bisogno assolutamente di un bomber ma non del bomber che ti fa 10 gol alla stagione il bomber che te ne fa almeno 17 gol perché purtroppo quest'anno abbiamo patito molto l'assenza di un vero attaccante possente in avanti si parla di Belotti a me non dispiace assolutamente si parla di altri attaccanti io ho qualche sogno nel cassetto però se vi va anzi fatemelo sapere nel caso lasciatemi un like io vorrei fare il calcio mercato che farei io al Milan ovviamente sempre un calcio mercato fattibile non vi dirò mai prenderei Ronaldo cercherò sempre ovviamente di essere quanto più credibile fattibile complimenti anche alla Juventus ovviamente che ha vinto il campionato complimenti alla Roma che ha dato filo da torcere alla Juventus fino alla fine complimenti anche a Napoli che è ancora lì che si gioca il secondo posto con la Roma ancora tutto aperto anche per quanto riguarda la retrocessione tutto può succedere quindi gli ultimi 90 minuti di questa stagione decideranno un bel po' di cose quindi ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se non siete ancora iscritti iscrivetevi e a presto ciao